Almeno 19 persone sono morte, altre 3 sono rimaste ferite in Messico dopo che un tir si è schiantato contro un casello autostradale e altri 6 veicoli. Secondo una prima ricostruzione i freni del camion si sono rotti prima che il tir si schiantasse prima contro il casello e poi contro i veicoli provocando un grande incendio sull'autostrada che collega città del Messico con lo stato di Puebla, una vera e propria tragedia che ha sconvolto tutto il Messico. Grazie a tutti.